Ce ne parla Serena Russo. Spettacoli, teatro, laboratori e attività ricreative attraverseranno dal 13 al 27 dicembre i cinque municipi baresi. È la quarta edizione di Bari Social Christmas, la kermess d'iniziativa rivolta in particolar modo a chi vive in condizioni di disagio sociale ed economico. Promossa dall'assessorata al welfare con il coordinamento del centro di ascolto per le famiglie di Carrassi e Madonnella, l'idea mira a promuovere occasioni di socialità e di integrazione soprattutto per i più deboli. Le piazze baresi, cinema e le sedi territoriali dei servizi comunali prenderanno nuova vita. Particolare attenzione meritano tre appuntamenti. Il primo, dal titolo Note di luce, si terrà il 13 dicembre nella Chiesa del Sacro Cuore, con una serata musicale assieme al coro di voci bianche dell'associazione Nova Arti Studium e la fanfara della scuola Massari Galilei. Il 19 dicembre invece è aperti a Natale e l'iniziativa che porterà nei teatri Chisme, Tabeliano e Casa di Pulcinella tre spettacoli per ragazzi. Come il Natale, infine, e la serie di eventi che animerà cinque piazze organizzate a tema, uno per ciascun municipio. Ma questi sono solo alcuni degli appuntamenti previsti, appuntamenti che cominceranno tutti, inderogabilmente, dalle ore 17. È ufficialmente partita questa mattina la campagna di sensibilizzazione a contrasto dell'omofobia e della transfobia ideata dal tavolo LGBTQI, con il sostegno dell'amministrazione comunale per veicolare sui mezzi dell'AMTAB una nuova cultura inclusiva e rispettosa delle diverse identità e orientamenti sessuali. Non vedo, non sento, non parlo il messaggio da superare delle tre scimmiette protagoniste delle 300 locandine che affisse su tutti i mezzi AMTAB invitano a superare l'indifferenza. È arrivato il momento annunciato il sindaco di Bari Antonio De Caro presente alla conferenza stampa che politica e legislatori prendano coscienza di come la società su questi temi sia già andata oltre. Questa mattina nel porto di Bari, cerimonia di commemorazione delle vittime del bombardamento del 2 dicembre del 43, una corona dell'oro è stata deposta davanti al monumento dedicato ai caduti. Vediamo. Sono trascorsi 71 lunghi anni dal tragico 2 dicembre 1943, quando i tedeschi della Luftwaffe bombardarono il porto di Bari. L'attacco arrivò inaspettato, al comando dell'autorità portuale c'erano gli inglesi. In un lampo 105 bombardieri provenienti dai Balcani sorvolarono la città, centinaia di bombe precipitarono sulle navi ancorate, molte presero fuoco, altre scoppiarono. L'attacco è stato definito da molti storici come la seconda Piler Bull della storia. Questa mattina la commemorazione, ricordo delle vittime della strage e la presenza dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. È stato uno degli episodi più drammatici della guerra in corso, ma anche della liberazione italiana, perché il porto di Bari sosteneva lo sforzo bellico degli anglo-americani. I tedeschi da tempo volevano colpire, volevano impedire che il porto potesse svolgere questa funzione. Fu un bombardamento disastroso che colpì tantissime navi americane, morirono moltissimi militari alleati, ma provocò enormi danni alla città, con circa 200 vittime e con diversi quartieri della città colpiti. La città vecchia, il quartiere murattiano, interi isolati, crollarono. Cucire o coprire? Una scelta per Bari. Il titolo del convegno che si è tenuto oggi pomeriggio nella sala consigliare del Comune di Bari. Una riflessione organizzata dall'Associazione Italia Nostra sul progetto Bari Centrale, frutto del concorso di idee per i cucire a parti della città di Vite dai Binari. Tra i relatori, gli assessori regionali e comunali e l'urbanistica, Angela Barbanente e Carla Tedesco. Un riconoscimento sancito dalla legge del Rio. Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia chiede che la città metropolitana riconosca la specificità dell'ente parco inserendo un emendamento nello statuto. Oggi la consegna di un documento partecipato che ha coinvolto cittadini e parti sociali, frutto del percorso di Murgia metropolitana. Sentiamo il Presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Cesare Veronico. Presidente, un documento partecipato che previene dal basso, che farà parte dello statuto della città metropolitana, oggi viene consegnata la sintesi di questo processo. Quale? Adesso sentiremo, diciamo che noi chiediamo di essere inseriti tra i principi dello statuto della città metropolitana di Bari, perché ovviamente la presenza di un parco nazionale in un'area metropolitana è ovviamente una specificità che gli altri non possono vantare. Diciamo che non abbiamo la certezza che sia inserita nello statuto, perché abbiamo già avanzato una proposta alla Commissione statuto che non l'ha recepita per il momento. Quindi senza fare polemiche noi chiederemo che ne venga fatto un emendamento e sarà il Consiglio metropolitano a decidere. Io parlerò anche con il sindaco della città metropolitana, con Antonio De Cara, perché ritengo che non sia un fatto positivo che è l'unico ente che si occupa in una fase politica delicata per il nostro territorio, perché siamo stati distratti di altro, di coinvolgere i cittadini per partecipare all'atto democratico più importante che una comunità si può dare. Ebbene questo ente che produce un lavoro attraverso la presenza di 200 persone che hanno collaborato si è ignorato. Per cui insomma noi auspichiamo infatti che rivedano la posizione. Un salotto letterario come quelli del XVI secolo, sede della compagnia d'autore. Casa Ruccia è una nuova realtà nata nel centro storico di Modugno. Ce ne parla Barbara Cirillo. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. Un salone dei racconti per ricreare l'atmosfera antica dei salotti letterari in cui ci si riuniva per condividere momenti di arte. Casa Ruccia è una realtà tutta nuova, allestita nell'omonimo palazzo del centro storico di Modugno, nata da un'idea di Roberto Petruzzelli a cui è affidata la direzione artistica, sede della compagnia d'autore capeggiata da Ernesto Marletta. Una grande casa di artisti che intrattengono il pubblico intimamente raccolto al centro di un salone dell'appartamento minutamente arredato. Non esiste un palco né una quarta parete. C'è solo il coinvolgimento immediato dello spettatore davanti al lettore-attore. Non esiste neanche un sipario perché le serate a Casa Ruccia non finiscono con le pièce atrali, ma continuano con tante chiacchiere rigorosamente da affrontare a pancia piena. In scena sono già state rappresentate opere come l'Otello di Shakespeare o come Mannaggia, omaggio a Peppino Denitti spittore. Il 9 dicembre invece partirà la rassegna di racconti letterari curata da Mariella Lippo e Maria Passaro. Per entrare a far parte di Casa Ruccia basta collegarsi al sito www.compagnadautore.it e il gioco, quello dell'arte, può cominciare. Adesso una notizia di servizio. Domani mercoledì 3 dicembre nel quartiere Poggio Franco sarà sospesa per 6 ore dalle 9 alle 15 la normale erogazione dell'acqua. Lo comunica l'Acquedotto Pugliese che effettuerà nel quartiere la realizzazione di nuove opere idriche per il miglioramento del servizio. I disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idica con insufficiente capacità di accumulo. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 13 e 20 gradi, venti moderati, mari poco mossi. Come sempre vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net e l'indirizzo di posta a voi dedicato infochiocciola e ilsegnodizorro.it. Per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito. Appuntamento più tardi. Grazie per aver guardato il video.